Ciao a tutti, partiamo subito con una bella partita in ladder, ho scaricato la patch l'altro giorno ho già portato il personaggio intorno al livello 35, vediamo di trovare un gruppo di persone per fare una run di un rift, cerchiamo in una partita pubblica, vediamo subito c'è già qualcuno che sta giocando, dovrebbe esserci qualcuno che gioca saloppiamolo, vediamo se ci segue ok, perfetto ho iniziato a giocare con il monaco, perchè era l'unica classe che non avevo ancora sviluppato impresa, rari estinti allora speriamo di trovare qualche leggendario oh oh oh, tac, vai di pugno palma esplosiva è devastante un altro bug, sono senza mano, perfetto la tattica che uso è praticamente usare colpo del ciclone unito a calcio rotante in modo da avvicinare un sacco di nemici a una volta e poi ticcarli coppia 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 perfetto materiale e oggetti perfetto qua la strada è chiusa proseguiamo di qua perfetto perfetto ok ok allora fa malissimo vabbè ancora siamo bassi di livello altro pack 2 pack vai di palmo ok oggettino fortissimo ok oggetti 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 Qua è chiusa la strada, questa mappa fa schifo proprio, è una delle mappe più brutte del gioco, ci segue questo amico, forse ha trovato qualche oggetto da cui mangiare si è fermato un attimo, va bene, noi proseguiamo, dove andate? Rassi amato, rassi. Benissimo. Oh, si è unito un altro. Si è venuto un barbara al gruppo. Vediamo che abbiamo droppato. Scusate, sono raffreddatissimo. Il barbara non si è ancora unito con noi, non vorrei fosse un bot. No, no, è arrivato ancora. Gobbo, gobbo, aspettate, aspettate, non lo sparate. Ok, perfetto. Ci servono materiali, materiali, materiali. Perfetto. Sai che sono pieno, devo lasciare qualcosa? Perfetto. No, 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 no. Pacc, pacc. Lei punca. perfetto sono rimaste senza questa è la novità extra sono duri c'è un altro pack qua sopra vai di scombo è uscito giù il boss è uscito il guardiano del nefilo il nefilo si sta ponendo un altro pack la vedo che lì già aia questo qua lo devo uccidere io perfetto materiali prendiamoci gli anelli ok soldi ho droppato qualcosa di interessante si questo qua questo qua mi sembra ottimo questo qua si fanno malissimo ok non c'è più spazio non c'è più spazio non c'è più spazio va bene ragazzi volevo solo fare vedere un po' di ladder torniamo in città e vi saluto a tutti alla prossima ciao 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 ciao